Ad Abbazia si festeggia il Santo Natale con un'elevazione musicale importante perché è un gruppo di cantori soprattutto appunto della Valle del Lujo che rappresenta l'unità pastorale di questa valle. Sì, con gioia il 26 qua in Abbazia il coro Dulcis Laude avrà modo di deliziare così soprattutto gli abitanti dalla Valle del Lujo dell'unità pastorale con questo concerto. Sono tutte persone della nostra valle, sono principalmente donne e si trovano regolarmente così a provare e la loro passione è il canto ed è bello proprio come il canto da sempre una ricchezza all'interno della vita della Chiesa riesce ad aglietare, a portare gioia e in questo momento e allevare anche i nostri cuori in qualche modo alla gioia del Natale. Come sarà organizzata la serata? La serata alle 20.30 qua in Chiesa Parrocchiale di Abbazia ci sarà possibilità di arrivare nella Chiesa e ci sarà la presentazione da parte di Elena David che condurrà la presentazione dei vari brani. Il coro è diretto dal maestro Marco Nodari, all'organo ci sarà Paolo Nava e poi appunto questo insieme di donne principalmente che presenteranno i brani per lo più a sfondo natalizio ovviamente.